Sono le 7, punto di domanda per Falto De Salù, parte forte Marco Ricci, impone bene questa curva di Filippo Torto, era un po' che non la si vedeva, adesso corre a tenere, buona curva anche per De Salù, prova a tornare sotto Marco Ricci, scappa via Torto, scappa via Torto, era un po' che non lo vediamo così, 20 e 14, oh, finalmente Pippo!